Buongiorno a tutti, con questa scheda vediamo di risolvere una poligonale a quattro vertici, lo vedete, frutto di un rilievo il cui libretto è questo, che vedete qua, quindi stazione 1, stazione 2, stazione 3, stazione 4, dalla stazione 1 si sono battuti il punto 4 e il punto 2, dalla stazione 2 si sono battuti il punto 1 e il punto 3, dalla stazione 3 si sono battuti i punti 2 e 4, quindi 2 e 4 e infine dalla stazione 4 si è battuto il punto 3 e il punto 1. Si sono fatte le letture al cerchio orizzontale, quindi gli angoli orizzontali che consentono di determinare alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4, quindi facciamo un esempio della stazione 1, collimando il vertice 4 si è fatta questa lettura, sempre al vertice 1 collimando il vertice 2 si è fatta questa lettura, quindi facendo la differenza tra questa e questa troveremo l'angolo interno alfa 1. Nel punto 2 collimando il punto 1 si è fatta questa lettura al cerchio orizzontale, collimando il punto 3 si è fatta questa lettura, quindi differenza delle due letture troverò alfa 2. Dalla stazione 3, collimando il punto 2 si è fatta questa lettura al cerchio orizzontale, collimando il punto 4 si è fatta questa lettura, quindi differenza delle due letture si trova alfa 3. Stessa cosa per il vertice 4, collimando il vertice 3 si è fatta questa lettura al cerchio orizzontale, collimando il vertice 1 si è fatta invece questa altra lettura. Facendo la differenza troviamo alfa 4. Essendo questo poligono un quadrilatero la somma degli angoli interni in centesimali deve essere 400. In realtà come vedremo alfa 1 più alfa 2 più alfa 3 più alfa 4 non darà 400 ma darà un valore diverso. Questo perché nelle letture che sono state fatte ci sono, come abbiamo detto, degli errori. Per cui questi errori andranno incidere sulla sommatoria di questi angoli che non risulterà pari a quella prevista, 400, ma un valore diverso. E quindi la prima operazione che andremo a fare sarà quella di compensare questi errori all'interno della poligonale. La seconda fase invece sarà quella di andare a determinare le coordinate relative dei vari punti, note le coordinate x e y del punto 1, in particolare la x meno 112,50, la y più 94,80. E in più conosciamo l'azimuth delta 1,2. E quindi dovremo andare a determinare le coordinate di vari punti, quindi coordinate relative, dal punto 2 rispetto al punto 1, dal punto 3 rispetto al punto 2, dal punto 4 rispetto al punto 3, dal punto 1 rispetto al punto 4. La sommatoria di tutte queste coordinate sia in direzione x che in direzione y dovrebbe essere 0, se tutto fosse stato fatto nel modo corretto, senza errori nella determinazione delle lunghezze. Perché come vedete qui, dalla stazione 1, collimando il punto 2, si fa questa lettura, 230,768 metri, che è la distanza di 1,2. 2. Dalla vertice 2, collimando il punto 3, si fa una misura di 219,463, che è la lunghezza di 2,3. Dalla stazione 3, collimando il vertice 4, si fa questa misura, 257,468 metri, che è D34. Infine, dalla stazione 4, collimando la stazione 1, si fa poi questa misura, che è 149,488, che è D41. Quindi noi conosciamo queste lunghezze, dovremo andare a determinare tutti gli azimuth, noto l'azimuth iniziale, in 1, ma ci accorgeremo che la somma delle coordinate relative, sia in direzione x che in direzione y, non risulterà a 0 uguale a 0, proprio per la presenza degli errori nelle misure delle lunghezze. Quindi dal punto di vista degli angoli, li avremmo sistemati inizialmente, quindi con una compensazione angolare, dovremo compensare gli errori anche delle lunghezze con una compensazione lineare. prima fase sarà quella di andare a fare un controllo e compensare gli angoli. Quindi quello che vi ho fatto vedere prima, si vanno a determinare gli alfa interni, per differenza delle letture, degli angoli, dopodiché si fa la somma, se questa somma risultasse 400, saremo a posto, in realtà non risulta, in questo caso vedete che c'è questa differenza, questo delta, differenza tra quello che ci saremmo aspettati e quello che effettivamente abbiamo misurato, e dobbiamo verificare che questa differenza sia tollerabile. La tolleranza si calcola in questo modo, dove AC per quanto riguarda i rilievi catastali, per poligonali inferiori a 2 km vale 0,25 e in questo caso n è il numero dei vertici, in questo caso è 4, in quanto stiamo parlando di un poligono a quattro lati, di un quadrilatero. La relazione che ci consente di terminare la tolleranza è questa, la tolleranza degli angoli alfa è uguale ad AC per la radice di n, dove AC è questo coefficiente e n invece è il numero degli angoli del poligono. Da questa relazione otteniamo che la tolleranza è 0,05. Dobbiamo confrontare il nostro errore con la tolleranza e in questo caso vedete che l'errore che commettiamo è minore della tolleranza, per cui è accettabile questo errore. Dovremo a questo punto andare a correggere gli angoli e andare a distribuire questo errore sui vari vertici e lo facciamo dividendolo per il numero dei vertici, quindi andiamo a individuare quella che è la correzione per ciascun angolo. Ciascun angolo verrà modificato con questo tipo di correzione, quindi facendo delta questo delta fratto n, dove n in questo caso è 4, otterremo questa correzione. Chiaramente la correzione che dovremo andare a fare sarà, se questa è positiva, questa dovrà essere negativa. Va essere negativa in quanto come vedete, l'angolo che abbiamo misurato è maggiore rispetto a 400, per cui dobbiamo togliere qualcosa. Quindi toglieremo ciascun angolo questo valore, otterremo gli angoli in questo modo corretti. Una volta determinati gli angoli, possiamo determinare gli azimuth. Partendo dall'azimuth teta 1,2 che era noto, possiamo ricavare attraverso questa relazione noti gli angoli, in questo caso gli angoli che inseriremo qua sono gli angoli corretti, quindi andremo a determinare tutti i vari azimuth. E a questo punto siamo pronti per la seconda fase, che è quella invece della compensazione lineare. Passiamo ora alla compensazione delle misure lineari. Quindi queste sono le distanze che abbiamo come dati forniti dal testo e dobbiamo andare a determinare quelle che sono le coordinate relative, in questo caso del punto 2 rispetto al punto 1, del punto 3 rispetto al punto 2, del punto 4 rispetto al punto 3, del punto 1 rispetto al punto 4, sia per quanto riguarda le x che per quanto riguarda le y. Quindi andiamo a determinare le coordinate relative x e y del punto seguente rispetto al punto che lo precede, e poi andiamo a sommare queste coordinate relative, sommare queste coordinate relative, quindi sommare queste coordinate relative in direzione x, quindi la sommatoria di queste coordinate relative, andiamo a determinarne il valore, questo dovrebbe essere uguale a 0. Così come andiamo a determinare la somma delle coordinate relative in direzione y, anche questo dovrebbe essere 0. In realtà né nel primo né nel secondo caso risulta essere 0. Significa che ci sono degli errori, ci sono degli errori relativi alle misure, perché gli angoli li abbiamo già compensati, per cui dovremmo andare a capire innanzitutto se l'errore che abbiamo commesso è tollerabile. Dopodiché si va a compensare l'errore sulle lunghezze che abbiamo misurato. Allora l'errore complessivo lo ricaviamo dall'errore in direzione x all'errore in direzione y, quindi delta x e delta y, quindi attraverso questa relazione, quindi la radice quadrata è delta x al quadrato più delta y al quadrato e quindi determiniamo in questo modo delta l. Delta l che è l'errore che abbiamo commesso per quanto riguarda le misure lineari. Dobbiamo confrontare questo errore con la tolleranza. La tolleranza viene determinata attraverso questa relazione k per la radice della sommatoria delle distanze che abbiamo misurato, in particolare quindi le lunghezze dei lati della poligonale, quindi corrisponderebbe sostanzialmente al perimetro della poligonale. Quindi andiamo a determinare questo valore, l'abbiamo determinato qua, 857,20, che è la somma di tutti i lati misurati della poligonale, le inseriamo all'interno di questa formula, moltiplicato per k per rilievi catastali, sempre con sviluppo di poligonali con sviluppo inferiore a due chilometri, possiamo considerare k uguale a 0,025. Quindi 0,025, questa è la sommatoria che abbiamo individuato qua, sotto la radice determiniamo questa tolleranza. Dobbiamo confrontare la tolleranza con l'errore commesso, se l'errore commesso è minore la tolleranza, come in questo caso la situazione è accettabile. Quindi possiamo procedere alla compensazione lineare. Per fare questo andiamo a determinare quelli che sono gli errori unitari, quindi l'errore unitario lo possiamo determinare in questo modo, in direzione x e in direzione y, cioè delta x fratto la sommatoria dei lati della poligonale, cioè il perimetro della poligonale. Questo perché andiamo a distribuire questi errori sulla lunghezza di ciascun lato, quindi quel lato che avrà lunghezza maggiore si prenderà una porzione di errore maggiore rispetto agli altri, mentre il lato che avrà una lunghezza minore, come in questo caso, prenderà una quota parte inferiore dell'errore che abbiamo commesso. Quindi proseguendo andiamo a determinare a questo punto quelle che sono le coordinate relative corrette, cioè partendo dalla coordinata relativa che abbiamo misurato, che abbiamo determinato precedentemente, quindi misurato, dobbiamo a questa togliere l'errore relativo moltiplicato per la distanza di quel lato. Quindi siccome abbiamo determinato l'errore unitario in direzione x e l'errore unitario in direzione y, non spalmiamo questo errore sulla lunghezza del lato che stiamo considerando. In questo caso per questa coordinata stiamo considerando questo lato, per cui moltiplicheremo questo lato per l'errore unitario che abbiamo individuato. Una volta quello in x, l'altro moltiplicando l'altro, quello in y. E faremo questa operazione per tutte le coordinate relative che abbiamo determinato precedentemente, quindi andiamo a correggere ciascuna coordinata relativa. Dopodiché andiamo per controllare se abbiamo fatto bene, andiamo a determinare la somma delle coordinate relative in direzione x e la somma delle coordinate relative in direzione y dovrebbe essere e deve essere uguale a zero. Se non è così abbiamo sbagliato qualche calcolo. Questo significa che a questo punto abbiamo le coordinate relative di ciascun vertice rispetto al precedente corrette, corrette dalla compensazione che abbiamo fatto, compensazione di tipo lineare. A questo punto possiamo determinare con queste relazioni le coordinate assoluti, partendo dalla coordinata assoluta del punto 1 che conosciamo, nota, quindi le coordinate del punto 1 sono note. Partendo dalle coordinate del punto 1 che sono note, possiamo determinare le coordinate degli altri punti. Quindi la coordinata x assoluta del punto 2 sarà data dalla somma della coordinata x del punto 1 più la coordinata relativa del punto 2 rispetto al punto 1. Così anche per la y del punto 2 chiaramente parleremo delle y. Quindi la coordinata y del punto 2 sarà data la coordinata y del punto 1 più la coordinata y relativa del punto 2 rispetto al punto 1. E così per tutti gli altri punti. in questo modo andremo a determinare le coordinate di ciascun punto dopo la compensazione. E in questo modo abbiamo concluso il nostro esercizio. Il nostro esercizio è un nuovo esercizio il nostro esercizio è un nuovo esercizio di ciascun punto dopo la compensazione. Grazie.